rispetto all'anno scorso abbiamo provato ad innovare un programma che era già abbastanza completo con due grandi sostanziali novità la prima l'introduzione di due moduli a parigi e a lilla con una grande business school francese IESEC sperando l'anno prossimo di aprire anche al mercato spagnolo con una grande business school e internazionalizzando sempre di più il master la seconda invece sui contenuti dove oltre ai tradizionali moduli di finanza di governance di gestione delle imprese familiari abbiamo aperto anche alla responsabilità nelle aziende familiari e al rapporto fra le aziende familiari e i grandi mondi internazionali come per esempio la BEI o le grandi fondazioni attraverso dei nuovi insegnamenti più legati anche a un nuovo modello di impresa